Siamo il Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, siamo un organismo del Consiglio Provinciale che esiste grazie a una legge che in Trentino dice che il Trentino deve occuparsi di pace e diritti umani. È nel nostro DNA, è nella nostra legge istitutiva, quindi per noi è normale esserci. Siamo qui con convinzione, lo facciamo volentieri, abbiamo coinvolto tutte le nostre associazioni, abbiamo fatto un ottimo di parecchi gruppi di lavoro in cui abbiamo discusso e abbiamo già cominciato a organizzare degli eventi. Ne abbiamo alcuni già programmati, come assieme all'Atlante, il Quartagesimo Parallelo, faremo un'iniziativa sul Ministero della Pace, per avere un Ministero della Pace. Assieme a tutta una rete di associazioni, il Nodo Trentino, in difesa dei difensori dei diritti umani, faremo un'intera settimana dal 24 novembre in cui ragioniamo sull'importanza di difendere chi difende i diritti umani. Oltre a essere il settantesimo anniversario della dichiarazione dei diritti umani, il 9 dicembre 1998 c'è anche la dichiarazione ONU che parla dell'importanza di difendere i difensori dei diritti umani. E noi con un gruppo di associazioni organizziamo anche più momenti di riflessione su questo. Grazie.